Buongiorno a tutti dal canale Calciando, siamo qui allo stadio caduto di Brema dove tra poco vi racconteremo l'incontro di calcio della quindicesima giornata della Serie A femminile tra il Napoli e il Florenzia San Gimignano. Un incontro importantissimo per le ragazze di Pistolesi che hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per tentare di avvicinarsi a quel terzo e ultimo posto che significa salvezza. Vedete le ragazze che si stanno riscaldando a vicino la telecamera e siamo a una trentina di minuti dall'inizio dell'incontro. Vi aspetto sul canale Calciando per il filmato che inserirò alla fine dell'incontro e per il racconto della partita potete leggere tutta la cronaca su www.socialfootballclub.it Mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al canale Calciando. Un saluto e a più tardi.